Tre giovani di età compresa tra i 19 e i 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri di massa per aver aggredito e derubato un loro coetaneo. Il fatto è avvenuto lo scorso 26 aprile in Via Democrazia a pochi passi dal centro di massa, dove i tre giovani hanno avvicinato il malcapitato chiedendogli dei soldi e a causa del suo rifiuto lo hanno colpito con calci e pugni e una volta a terra gli hanno portato via il telefono e il portafoglio. Dopo la denuncia del ragazzo, rilasciata diversi giorni dopo l'aggressione, i carabinieri hanno ricostruito l'accaduto, anche grazie alle registrazioni delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, che hanno fornito elementi utili al riconoscimento dei colpevoli. I tre indagati, tutti con precedenti penali, sono stati inviati in custodia presso il carcere di massa e adesso dovranno rispondere dei reati di rapina e lesioni aggravate.